Si apre ovviamente con gli occhi puntati sulle quotazioni dell'oro la 43esima edizione di Oro Arezzo organizzata dalla società fieristica IEG e in programma dall'11 al 14 maggio all'Arezzo Fiere e Congressi. Saranno presenti oltre 370 brand espositori in aumento rispetto all'edizione 2023 quando erano 350. 240 sono aziende di oreficeria e gioielleria, semilavorati e componenti, pietre preziose e semipreziose, 63 produttori di macchine per il settore orafo e 48 venditori sul pronto, il cosiddetto cash and carry. Arezzo domina il fronte espositivo con più di 120 brand che spongono le proprie collezioni. I buyer esteri ospitati d'altamente profilati sono circa 400 provenienti da 60 paesi, erano 55 nel 2023. Il rapporto è dunque di oltre un buyer ospitato per azienda. Oro Arezzo sarà anche la vetrina delle creazioni in concorso alla 33esima edizione di premier aperto agli studenti delle scuole Orofe con la categoria Talents. Il distretto Orofe Aretino è reduce da un 2023 brillante che ha visto l'export sfiorare i 3,5 miliardi di euro con una crescita del 9,4%. I mercati principali di destinazione della manifattura aretina sono per volumi Turchia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Hong Kong e Francia. Anche lo scenario nazionale vede continuare il trend positivo di settore.